Del piano regolatore generale inteso come una grande occasione di ripensamento della nostra città e come un'occasione straordinaria di ripensamento della nostra città. Lo dice chi l'ha vissuto per un decennio da assessore all'urbanistica e ha visto davvero che forse nessun altro piano, nessun'altra pianificazione è così trasversale come il piano regolatore generale. Quindi è un'occasione straordinaria che vuole cercare di ripensare la città per dare una risposta aggiornata, per dare una risposta sostenibile. La sostenibilità non è solo quella ambientale, quella economica, ci sono tante altre sostenibilità. E anche equa, perché l'equità è una delle nove parole che stanno lì all'inizio del mio programma.